ciao sono michael leonessa product specialist yes tech per audio effetti oggi parliamo di mwall la soluzione innovativa proposta da yes tech per l'installazione fissa indoor pensata per centri commerciali sale conferenze musei auditorium ma anche stazioni aeroporti e molto altro mwall è disponibile in due formati standard il 50x50 comodo e versatile o il più veloce e conveniente 50 cm per un metro entrambi basati su un telaio di alluminio ricavato dal pieno ultra sottile solo 6,5 cm di spessore che garantisce grazie alla qualità costruttiva una precisione di montaggio estrema e un allineamento perfetto con un design di ispirazione rental resistente agli urti ma anche elegante e pulito dotato di maniglie integrate per rendere ogni montaggio più veloce e sicuro un peso record di 5,2 kg le pcb led godono di sistema di fissaggio magnetico a 8 punti e contribuiscono a rendere perfetto l'assemblaggio di schermi planari senza errore di allenamento di pixel sia sull'asse orizzontale che su quello verticale inoltre le pcb viaggiano separate dalla struttura e imballate singolarmente riducendo al minimo la possibilità di danneggiamento durante il trasporto mwall è eccezionalmente affidabile stabile in quanto pcb scheda hub e receiving sono accoppiate tramite connessioni a slot senza flat cable la messa in opera è versatile e semplice veloce supporta sia installazione in appendimento che in ground stack i cabinet sono dotati di pulsante di test per verificare il corretto funzionamento prima di completare l'installazione stessa la possibilità di manutenzione front e rear completa il quadro di un prodotto perfetto per professionisti che hanno bisogno di prodotti affidabili sicuri veloci da installare e dai costi contenuti disponibile con pixel pitch da 1.9 2.6 2.9 3.9 4.8 con refresh rate da 3840 hertz e rapporto di contrasto 9.1 un'efficienza luminosa in grado di rendere visibili le immagini con qualunque condizione di luce assicurando la visione laterale grazie a un angolo di visione fino a 160 gradi mwall adotta un sistema di dissipazione del calore estremamente efficiente ed intelligente che garantisce una lunga durata nel tempo oltre ad essere certificato con grado ignifco v zero per poter essere installata in ogni contesto riducendo notevolmente i rischi di incendio se vuoi informazioni su disponibilità e prezzi della serie mwall di yes tech non devi fare altro che chiamare il nostro reparto commerciale a questo numero o mandare una mail a ordini italia chiocciola audio effetti punto it per avere informazioni tecniche invece scrivi a stream chiocciola audio effetti punto it e saremo lieti di risponderti ricordati inoltre di iscriverti al nostro canale youtube per rimanere sempre aggiornato grazie per l'attenzione e al prossimo video da michael leonessa ciao